Eccoci qua, Luca il re dei re, esagerati, 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 siete troppo buoni, vieni qui, come state gente? Fuori fanno ancora festa, ma si sente? Ehi ragazzuoli, ma si sente fuori che stanno facendo ancora festa? Si sente fuori che stanno facendo ancora festa? Oh, grazie mille Brian! Grazie mille, grazie mille di cuore, grazie Gabriele per i cento! Grazie, grazie ragazzi, allora, gente, cosa vi piacerebbe vedere? Cosa vi piacerebbe vedere in live? Cosa vi piacerebbe? Il rossetto non c'è più... Grazie mille Giobacco! Grazie mille Giobacco07! Cosa vi piacerebbe? Ah, ragazzi, gli altri... Come non si sentono? Aspetta... Era questo? Sì, sì, sì... Oddio, adesso dovrebbero sentirsi, aspetta... Benvenuto a Bordo del Partito! Ora si sentono, grazie mille Alex Merch! Allora, tutti vorrebbero la reaction alla YouTuber League, però con te... Ma l'ho vista un po' ieri... Eh, ma vorrebbero vedere la tua reazione... Benvenuto a Bordo del Partito! Grazie mille Simone Cerati! Grazie mille! Grazie mille per la sub! Ragazzi, tutti sul treno! Tutti sul treno! Aspetta! Gente di TikTok, venite in live su Twitch perché sta per succedere una cosa importante... Non spoiler! Venite, vi aspettiamo su Twitch! Non ho sentito! Ciao, come state? Grazie Filippo! Stiamo bene, stiamo bene! Voi? Anche! Allora, allora... Oddio! Ma io mica me ne ero reso conto! Mancano 16 sub alla cena con tuo papà? Eh? Sì, però devi ancora portarmi allo stadio, devi ancora fare il mio schiavo, devi ancora fare un sacco di cose... E soprattutto... Ragazzi, stasera dobbiamo prenotare tipo la cosa bionda per farmi i capelli biondi... Allora... Cosa volete vedere ragazzi? Lo so che devo portarla allo stadio, ma come vedete adesso sono straimpegnato... Non sto andando nemmeno io allo stadio... Lo stadio forse lo vedrà nel 2023 Alice... No! Vado allo stadio io! Benvenuto a bordo del partito! Grazie mille! Grazie mille per il Prime! Ragazzi, facciamo andare avanti il treno, mercoledì va allo stadio! A vedere Juve Paris, Paris Saint Germain! Cioè ragazzi... Capito? Portala a Gardaland! No, brutto ricordo di Gardaland! Cioè non mio! Cioè ragazzi, vuole... Lei va a vedere Juve Paris Saint Germain e io no! Ah, sai che papà mi aveva chiesto se volevi venire? Veramente? Mi ha chiamato Pino... Mi sono dimenticato di... Veramente? Se voglio venire con voi... Cosa è l'idea? Dopo glielo chiedeva se mi... Ma sei serio? Cioè potrei venire allo stadio a vedere Juve... Juve Paris Saint Germain! Io te e tuo papà! Con il signor Muzza! Aspetta, sentiamo... Di prima che in diretta... Vado allo stadio con il signor Muzza! Niente! Benvenuto a bordo del pallino! Oh, grazie mille Daddy! Grazie mille per il Prime! Papi! Ragazzi! Sono in live! Il 96% dell'hypetrain! No! No! Ma non ho capito! Devo chiedere a Luca quella cosa? Se vuole... Lui dice di sì! 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 Va bene! Ok! Dai! Un bacio! Ciao! Benvenuto a bordo del pallino! Grazie mille Davide! Grazie mille Davide 3x08 per il Prime! Se vieni! Ma veramente? Sì! Mi porti a vedere Juve PSG con te! Cioè non è che... Porto Alice allo stadio ragazzi! Non è vero! È mio papà che ti porta allo stadio! Avete visto che porto Alice allo stadio? Eh! Voi che pensavate? Ma sono io che ti porto allo stadio! Almeno facciamo delle fotine carine! Vediamo! Ma tu hai la foto di un documento sul telefono? Sì! Me la mandi! È Chris Crincolo dietro di voi! No! Siamo nel Tugurio! Siamo nel Tugurio! Siamo nel Tugurio! Allora! Vengono Alice e Matteo? Non lo so! Non lo so! Chi chiamoglielo? Non lo so! Aspetta! Chiedilo! Aspetta! Glielo chiedo un attimo! Chiamo io Matteo! Sei tu? Sì! Mandami i documenti tu! Aspetta! Allora dai chiamalo tu! Chiamalo tu! Aspetta! Io ti mando i documenti! Allora! Benvenuto! Grazie mille! Adesso sentiamo Lisa e Matteo! Grazie mille per il Prime! Brisco 04! Grazie mille di cuore! Aspettate eh! Allora! Allora! Aspettate! di esserci! Sulle mani? Sulle mani! 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 Misia Alicia e Meglio di ... Oh Foma, c'è Foma, vieni, Foma facci un saluto, benvenuto a bordo del pandino, grazie mille Diego, grazie mille per il Prime, salite sul treno, salite sul treno ragazzi, vieni vuoi venire, fai vedere la mano Foma, oddio, la mano di Foma, più potente che mai. Vai a casa, se becchi Lisa o Matteo gli chiedi di entrare, di unire in live, di lì si passano, allora aspetta, adesso gli scrivo un attimo Matteo. Lisi? Volete venire, tu e Matteo un po' in live? Va bene, ok ok, ciao. Non possono. Niente, non possono, forse arrivano dopo ragazzi, ah no, non ho capito cosa stanno facendo, si stanno facendo i video, vabbè, allora, 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 stanno limonando duro, eh no, eh no, eh no, allora, allora. Youtuber League. No, scegliete voi chat. Benvenuto a bordo del pandino. Masticazzi, grazie per il Prime, grazie mille di cuore, Masticazzi, spam di Foma, ma, ma porca miseria sto spam di Foma. Allora, che belli che siete, grazie. Allora, Luca mi dedichi un bel superfuxio. Allora, ti faccio vedere, siccome la chat lo richiede, ah, scrivi tu, YouTube. Aspetta, magari scrivi YouTube. Ecco, è già qua, è già qua. Ok. Ok. Benvenuto a bordo del pandino. Devo fare lo switch. Aspettate, grazie mille Stefano. Aspetta, faccio così. Hop. Hop. Hoplai. Ecco qui. Benvenuto a bordo del pandino. Grazie mille Ale, grazie mille di cuore. Aspetta che qua rimpicciolisca un pelo. Aspetta, ferma. Ma la dobbiamo vedere tutta? Fermo, no, no, ti faccio vedere. Così mi sentite tantissimo. Benvenuto a bordo del pandino. Sentite, ragazzi. Nove alla cena, dicono. Aspetta, un attimo. Oh, ne manca nove alla cena. Bar. Ecco qui, bene, grazie mille, grazie mille, grazie mille Andrea, grazie mille. Allora, Muzzolona, ti faccio vedere. Ti faccio vedere sta cosa. Benvenuto a bordo del pandino. Oh, aspetta. Luca, 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 ammetti che a luglio ti frequentavi con Martina dell'Anna, lo dicesti in una live da Rubino e in un video sul tuo profilo in cui dicevi che avevi chiuso una frequentazione con una ragazza e non era Alice. Benvenuto a bordo del pandino. Grazie mille Gallo per il Prime, grazie Giuso per i due mesi. Sì, lo ammetto. A luglio. Buona luglio. A luglio. A luglio mi frequentavo. Giugno. Vabbè, giugno, luglio mi frequentavo con Martina dell'Anna. Aspetta che abbasso un pelo la cam. E di nuovo qua. No. È un'immagine bruttissima. È un'immagine bruttissima. Non ho problemi a dirlo, ragazzi. È un'immagine bruttissima. Cosa? Perché ho fatto così. Non ho problemi a dirlo. Allora, allora, allora. La chat vuole vedere questo. Che cazzo, Marconi. Questa pubblicità. Madonna santa. Benvenuto a bordo del Pantino. Grazie mille, Giuse. Grazie mille per i due mesi. Ciao, vi voglio bene. Grazie, anche noi. L'abbiamo fatica. Allora, la chat vuole vedere. Benvenuto a bordo del Pantino. Grazie mille, Davide K. Ciao. Benvenuto a bordo del Pantino. Grazie mille, DJ Tatore 16. Grazie per il Prime. Continua a insultarmi, Daniele. Eh, sì, nel senso debole, ma che alle volte punge. Quindi occhio. Ritorna Luca Campolunghi dopo il suo infortunio. Però abbiamo ricevuto una tua dichiarazione dalla scorsa partita che non hai potuto giocare. Non c'è lasagna oggi, ma avevo molta fame di lei. Cosa vogliamo dire a riguardo? Anche ho fame di lasagna, però il piatto è da mangiare. Ho sbagliato a dire avevo, perché continuo a dire ho fame di lasagna. Quindi oggi sono venuto qua per te. Sono ancora un po' infortunato, mezzo acciaccato, ma quando vedo lasagna, passa tutto. No, che carino. Ti ha palesemente dato il palo. Un palo fortissimo. Dicendo che è carino. Palo. Niente. Palo. Palo. E poi torna benissimo Nicolás che gli nasconde il pallone. Ancora Nicolás che ha scaricato su Fratino. Movimento di Pipega visto e lanciato. Solidoro. Fratino torna sul pallone però. Lazza. Bravi, 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 bravi. Chino, chino. Le sterzate di Nicolás che poi suggerisce su Fratino. Uno, due. Nicolás sale a cross. Campolunghi. Luca Campolunghi. All'esordio. All'errientro. Dall'infortunio. Segna subito. Uno a zero Juve. Pierino dietro. Bellissimo. Un gol da attaccante vero. E poi? E poi dove va? Va da lasagna. Un gesto molto carino. Molto carino. Da signore. Sì. Da signore. Cioè, gran gesto. Sì, per lei sì. L'ha apprezzato? Sì. Io no. E no. E no. E no. E no. È inutile che mi dai baci quando dedichi i gol all'altro ragazzo. Ma non è vero. Se vuoi avere un riscontro da me, non l'avrai? Perché? Perché non mi fai ingelosire con queste cose. Trucco sulle labbra di Luca chi lo ha tolto? Mangiando. Mangiando. Doppia F per Luca. Benvenuto a bordo del Pantino. Grazie mille. Mi chiamo Gabri per il Prime. Si sta schiantando il treno a livello 5. Mancano 15 secondi. Oddio. Sta morendo. Sta morendo. Oddio. Oddio. Grazie Davide. Niente. Andiamo avanti col video. Allora, allora. No, poi questo. Oddio. Grazie mille bambina in cantina. Grazie mille. Grazie mille. Anche Alice ha mangiato. E' mangiato anche tu. Sì. Meno due. E' vero. E' vero. Vai. Continuiamo il video. Mi voglio divertire. Allora vado al goal. Allora no, voglio un commento tecnico di Alice sui goal. Cosa ne pensi del primo goal? Tu da, che non ne intendi di calcio. Le sterzate di Nicolas, che poi suggerisce su Fradino. Uno, due. Nicolas sale a cross. Capolunghi! Luca Capolunghi! Cosa ne pensi di sto goal? Bello. Perino. Ok. Chat, poi chiedo anche a voi qual è il vostro preferito, eh? Vi faccio vedere i miei goal, proprio. Si puta Akinoshi. Va sul sinistro. Am si. Carica. Prende la mira. Am si fene. La tiene lì. Cato ancora il pallone su Campolunghi che ha girato. Fradino. Lo guarda. Lo serve. Campolunghi! Grazie mille, Hawkshot. Grazie mille per le due sub gift del canale. Zero. Tre a zero. Tre a zero. Due volte. Campolunghi. Aspetta. Cosa? Mi ero concentrata più sul fatto che siamo arrivati a 150 e dovremmo andare a cena con mio papà. Vieno. Quindi, questo. Fai così, fai così, fai così. Aspetta, così. Questo no? Bravo. Top. No. Per un attimo. Ok. Allora, questo cosa ne pensi? Mi rifallo vedere. Cato ancora il pallone su Campolunghi che ha girato. Fradino. Lo guarda. Lo serve. Campolunghi! 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. Due volte. Campolunghi. Che è giudo? Sì. Sì, sì. Ma mi piace la complicità che avete più frattina sul campo. Allora. Madonna, Marconi. Ste pubblicità. Porca miseria. E mi piaciuto. Il trasloco stressa anche il tuo intestino. Entro germina, previene e cura la flora intestinale alterata nei casi di stress. Vediamo se cerca il destro. Oh, sta Campolunghi. Il tempo è rientrato dopo la botta di prima. È uscito col più gobo. Occhio alla maschera. Juventina. Gasbarri. Fradino. Dentro per Campolunghi. Che fa sportellate e dice duello con Steve. Tripletta di Campolunghi. Che stavolta l'ha fatto bellissimo. 5 a 2. Voilà. Segna e chiede il cambio. Come stai, Luca? Ho visto la sagna. 110 per di... No, sto malissimo. Malissimo. Ne ha fatti 3. Vedremo quando sarà al 100%, Pier. Fa 10 gol a partita quando ha al 100%. Mamma mia. Cosa ne pensi di sto gol? Allora, dico una cosa. Bel gol. Proprio meno. Cioè, è carino. L'unica cosa è che ogni volta che fai un gol pensi a lasagna. Ogni volta. È impressionante la cosa. Secondo tempo. Secondo tempo. C'hai una fissa per lasagna? C'hai una fissa per lasagna? Ma per il content. Sì, content. E lui giustifica tutto quel content. Potrebbe tradire la sua ragazza e dire il content. Giusto? La maschera addirittura. Cerca di difendersi dal ritorno del difendimento di Nicolás che vuole ripartire. Sti, rientra in con... Benvenuto. Il Milan gioca. Grazie mille, Mirko Cento per il Prime. Grazie mille. Ma perché ancora? Allora, qua. Il Milan segna. Pierino ha cambiato maglia. Pierino. Mano clamorosa qua, tra l'altro. Era pallo di mano? Sì, era pallo di mano, evidente, mi sembra. Prova anche a ripartire. Pippega a tornare sul pallone. Fratino. Ce l'ha sul destro. Cerca l'imbucata. Campino. Campo lunghi. Campo lunghi. Una tendenza. Sette a cinque. Sette a cinque. Quattro gol di Campo lunghi. Allora. Grazie Ninja. Allora, qui. Questo è bello. Oh. Questo è bello il gol. Sì, sì. Oh. Ti porta fortuna a lei. È una costante. O ti porta fortuna a lei. E allora continua a farlo perché se questo è il risultato mi sta bene. Oppure sei tu che ti ostini a fare il provolone con ragazze che non ti cagheranno. Questo di testa è bello, eh. Cheat. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Quattro gol di Campo lunghi. Occhio al cross. Il secondo palo vi pega e poi Campo lunghi. Campo lunghi. Guarda, guarda i miei compagni. Guarda i miei compagni increduli. Cinque gol del bomber. Cinque gol dell'MVP. Guarda, e andiamo. E qua. E guarda qua. La squadra. 8-7. Partita tesa. Guarda cosa fa il centro avanti. A vuoto l'Azza però. E adesso occhio che è scopertissimo il Milan potenzialmente perché veloce Nicolás. Ma chiude Mirko. Palla buona lo stesso per Campo lunghi. Non ho più. Accettivi. 9-7. Sei gol. Del mostro. E qui. 9-7. Sei gol. Del mostro. Mi è piaciuta la giocata che hai fatto. Ciò. No, un colpitino. Accettivi. 9-7. Sei gol. Del mostro. Eh sì. La prima da una parte e poi hai fatto la giocata. Sì, dai, ve la faccio vedere. Guarda, se no la gente. Vi faccio vedere la clip del cabrone. Crivi TikTok. Firmato. Hai fatto il login? No, non direi già quello che ho. Ah no, è collegato a quello giù. Mamma raga, se sto morì di sonno, ve lo giuro. Bene. Allora, allora, allora. Allora. Cosa c'è? Che fai? Ho sbagliato. Sposta. Esatto. No, ferma, ferma. Per l'amor di Dio, che fa? Allora, aspetta un attimo. Vai. Raga, non lo so, ogni volta. Vai. Cosa c'è? Ecco, meglio. Allora, allora, allora. Dov'è? Aspetta, aspetta. No, no. Perché no? No, ma scrivi, scusa. Eccoci, allora. Allora, aspettate. Allora, adesso farò una dedica. Puzza, perché hai fatto questo? No, perché me l'hai tirata tre volte in testa. Adesso farò una dedica alla Muzzolona e poi ve la faccio leggere a voi. Allora, adesso faccio una dedica alla Muzzolona e poi la faccio leggere a voi. Benvenuto a bordo del pandino. Benvenuto Noa XFN02. Grazie per il Prime. Grazie Noa, grazie per il Prime. Guardate cosa ho scritto per la Muzzolona. Non si vede, non si vede. Benvenuto a bordo del pandino. Sono un cucciolone. Grazie. Sì, ma io mi ricordo la vecchia clip. Grazie mille, Kimpran07, grazie per il Prime. A me queste cose non fanno effetto, perché io mi ricordo una clip di una live vecchia che avevi fatto con un'altra ragazza e l'avevi scritto in fronte mi vuoi sposare, quindi a me queste cose non fanno effetto. Ma era per il content. Anche questo è per il content. Non è vero, questo lo penso veramente. A Roma si dice paraculo. Eh. A casa mia si dice... Si dice? Bugiarti. Allora, ma Alice, Luca è ricco, Rocco è semplicemente Aland? Aland. Allora, allora. Vai a venire Manila. Alice è spettacolare, è vero. Alice è una signora e io un signore, infatti ci completiamo. Eh. Se intendiamo signore come intendi te stesso, guarda. Mamma mia ragazzi, non vedo l'ora di struccarmi, ve lo giuro. Ah, ma diteci anche una cosa, domani sera siamo io e lei da soli in tutta la Stardust. Cosa volete che facciamo in live? Dateci delle idee. Dateci delle idee. Oh. No, cos'è? Brinda. No, no, sono a strema. Esatto. Non è altro, figuole. No, 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 no. Ma è Sprite? Sprite! No, no, è Sprite. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con po' di Sprite? No, no, no. No, vado a fare. No, vado a fare un sorso. Buona, eh? È Sprite. Un bambino, no? Sprite. Ma rimanete in live perché è stata... Sei sul tuo profilo? Sì. Vuoi venire? Vuoi mutarti un attimo? No, sì. Un secondo, eh, ragazzi? Un secondo, eh, ragazzi? Un attimo. Bene! Dopo che ho sentito queste dichiarazioni... Allora, domani sera... Allora... Allora, allora... Ma no, ma no. Scusate, problemi tecnici? Allora, allora, allora... No, no, niente. Ragazzi, la clip del gabbrone domani, per l'amor di Dio. Fate i bravi. Fate i bravi, ragazzi. Allora, domani sera fate insegna ad Alice a giocare a FIFA. Allora, fai così. Andami. Dove lo fare? Eh, per forza. No. No. No, è da... Allora, ragazzi, adesso, momentaneamente... Arriva. No, no. Ci riam dopo. Salve, Luca. Vedere la tua attitudine positiva ultimamente spinge... Aspetta un attimo, no. Allora, aspetta. Ragazzi, aspetta un attimo. Allora, ragazzi... Purtroppo, purtroppo ci sono... Non ho perso il mio lavoro come autista e mi hanno revocato anche la... Niente. Allora, no. Ragazzi, purtroppo ci sono stati dei problemi. Non so... Non so cosa sia successo, ma è successo qualcosa di abbastanza... Non ho capito cosa. Quindi dobbiamo un attimo... Cioè, dobbiamo staccare... Dobbiamo un attimo staccare. Non è... Aspettate. Aspettate che finiscono... Allora... Aspettate un attimo. Appena finisce la pubblicità. Quando tutti mi vedete... Allora... Allora, vediamo... Sentite, ragazzi, avete ancora la pubblicità? Sentite, ancora avete la pubblicità? Ok. Va... Allora, ragazzi... Purtroppo... Non ho capito cosa sia successo... Solo che siamo stati convocati tutti da... Siamo stati tutti convocati... E... E niente, praticamente... Dobbiamo... Devo andare... Quindi... Vabbè, siccome siamo stati in live... Alle 5... Facciamo... Oh, tanto... Tanto ragazzi... Ci siamo... Ci siamo domani... Ci siamo domani... Scusate... Scusate l'imprevisto... Purtroppo non... Non ho deciso io... Eh... Ci vediamo domani alle 21... Scusate veramente... Domani... Domani siamo solo io Alice... Faremo una bella live... Vi farò anche il box delle domande su Instagram... Con cosa vi piacerebbe vedere... E... Niente... Ragazzi... Non è colpa mia... Scusate... Ci vediamo domani... Vi voglio bene... E grazie per il supporto... un dels primi... Ci vediamo dalle an air...